Mi ha raggiunto in studio Maurizio Ruggeri, ciao Maurizio. Eccoci Germana. Allora l'Italia cede ai quarti di finale degli europei, aspetta di conoscere la sua avversaria di venerdì 2 luglio a Monaco di Baviera. Eh sì, sì, grandi titoli per l'Italia che va avanti a parer mio anche un po' a fatica. Comunque insomma abbiamo battuto l'Austria a Proda nei quarti di finale dove incontrerà la vincente di Bergio Portogallo, partita in calendario stasera alle 21. e nonostante il protarsi del match, perché l'Italia poi ha vinto i supplementi,